Benvenuti al nostro TG Sport, cari amici di Telemolise. In apertura parliamo di basket femminile di Serie A, si gioca la sesta d'andata. In anticipo domani la sesta giornata, Virtus Bologna, Dinamo Sassari, Faenza Umana, Raier Venezia, Broni, la Molisana Magnolia Basket Campo Basso, Lucca Empoli, Moncalieri, Costa Masnaga, Ragusa, Schio, Sesto San Giovanni, San Martino di Lupari. La Molisana Magnolia Basket Campo Basso, domani sera ospite di Broni. La Molisana Magnolia Basket Campo Basso è in viaggio verso la Lombardia per affrontare Broni. Domani in anticipo il sesto turno di campionato, poi la sosta per dare spazio alle nazionali impegnate nella prima finestra FIBA legata alle qualificazioni agli europei ospitati da Slovenia e Israele nel 2023. Le ragazze di coach Sabatelli sono reduci dal capo interno contro Lucca che è costato il primo stop stagionale e la vetta della classifica. Oggi al comando a punteggio pieno c'è solo Schio, domenica scorsa turno amaro per le Rosso Blu e Venezia. Sul cammino di Toiani e Soce un'altra squadra sulla carta alla portata, se consideriamo i punti in gradatoria, Broni ne ha due, così come Lucca la vigila del match della Molisana Arena. Il tecnico Castelli ha a disposizione un roster competitivo che in questo avvio di campionato ha faticato ad esprimere le proprie qualità. Tra le fila delle Lombarde la guardia Gabbiati e le straniere Dedic, Perisa e Krivacevic. Tornano al Palaverde Toiani e Premasunac ex di giornata ad arbitrale Broni, la Molisana Magnolla Basket Campobasso, la Trevigiana Chiara Maschietto, secondo arbitro il fiorentino Giallorenzo Miniati a chiudere la squadra degli arbitri, la Trentina Laura Pallaoro. Nel frattempo le Rosso Blu hanno anticipato a sabato 20 novembre alle ore 19 il proprio match interno contro Venezia, poiché la domenica seguente il calendario di Lega Pro ha messo in calendario Campobasso-Foggia, situazione che aveva portato alla richiesta partita dalla questura di Campobasso di anticipare la gara di pallacanestro per non far incontrare le due tifoserie, dato che sia lo stadio che l'arena sono collocate entrambe nell'area di Selva Piana. Calcio di Lega Pro nel weekend, la tredicesima giornata. Tredicesima giornata in Lega Pro, quattro gli anticipi, Juve-Stabia-Bari domani alle 14.30, così come anche Vibonese-Monopoli, Campobasso-Catania in campo a partire dalle 15, mentre Avellino-Taranto dalle 17.30. Il quadro si chiude domenica con Fidelis Andrea Palermo, Monterosi-Turris, Cadanzaro-Messina, Foggia-Paganese, Francavilla-Latina e Potenza-Picerno. Al Selva Piana domani pomeriggio è in programma la sfida tra Campobasso e Catania. La gara inizierà alle ore 15.00. Perfettamente riuscito l'intervento a Damiano Menna presso la clinica Villa Stewart di Roma. Il giocatore ha già lasciato la struttura per trascorrere il periodo di convalescenza. La riabilitazione sarà graduale. Entro fine mese è previsto il ritorno in squadra. Probabilmente la scelta più saggia. Effettuare l'operazione all'ernia per non trascinare troppo il malessere del difensore Rosso-Blu. Squadra concentrata sull'anticipo della tredicesima contro il Catania. La seconda siciliana avversaria consecutiva. Il Campobasso vuole, ma forse deve trasformare Selva Piana nel suo catino, dove costruire la salvezza punto dopo punto. Certo è che l'andamento esterno è di quelli importanti e sta pensando molto in classifica in senso positivo. Però anche motivi di opportunità impongono alla formazione Rosso-Blu di alzare la media punta interna. L'ultima ed unica vittoria a Selva Piana è datata a 3 ottobre contro la Paganese. Il Catania non gioca invece. Dallo scorso 24 ottobre trasferta vincente a Viterbo contro il Monterossi, decisa da una doppietta di Moro, un gol di Russini ed un altro di Greco. I Rosso-Blu, Molisani e quelli Etnei hanno gli stessi punti, ma il Catania, solo per la cronaca, ha una ripartizione più equa dei punti fatti. Sette in casa ed otto in trasferte. Il Campobasso, quattro in casa ed undici in esterno. Il Catania ha anche una partita in meno. Cudini confermerà il 4-3-3, ma con delle novità di formazione. Dentro uno fra Sbardella o Magri, al fianco di Dalmazzi. A destra spazio a Fabriani, sulla corsia Mancina ancora in essere il dubbio fra Pace o Vanzan. Sarà il giorno del rientro di Ladu dopo mesi di assenza prolungata. Da stabilire se Cudini vorrà gettarlo nella mischia sin da subito o meno. A centrocampo i nomi gettonati sono i soliti, quelli di Bontà, Candelorio e Tengorang, ma da domani il rientro del Sardo. E lo stesso Persia sono già due importanti alternative. Attacco che rivedrà la convocazione di Di Francesco. Una buona notizia per Cudini e per il giocatore che ha sbrigato prima del previsto l'infortunio rimediato il 20 ottobre scorso a Torre del Greco. E Mausso e Parigi pronti in caso di necessità. Variazione di orario per la prossima trasferta del Campobasso a Latina. Si giocherà dalle 14.30, non più alle 17.30. Per Campobasso Catania di domani fischietto affidato al signor Cascone di Nocera Inferiore. Fra le gare da seguire con maggiore interesse c'è la trasferta del Bari a Castellamare di Stabbia, ma anche Vibonese Monopoli sarà l'ultima della classe a saggiare le reali possibilità. De Pugliesi, Mina Vagante, seconda in classifica. Derby tutto Lucano fra Potenza e Picerno. Interessante in chiave playoff la sfida fra Lavellino, ancora privo dell'infortunato Carriero, ed il Taranto abbastanza costante nei risultati. Altra gara simile ad un testa-coda, quella fra il Catanzaro a quota 20 ed un Messina, che gradualmente prova a mettere Fieno in Cascina. La Paganese, che domani giocherà a Foggia per il dodicesimo turno, comunica che a seguito di una positività emersa all'interno del gruppo squadra è stato immediatamente attivato il protocollo sanitario. La persona risultata positiva al tampone molecolare è asintomatica ed è stata posta in isolamento come da protocollo. Conseguentemente l'intero gruppo squadra si è sottoposto ad un ciclo di test anti-covid mediante il tampone molecolare, il quale ha dato esito negativo. Domani evidentemente in onda anche la trasmissione Rosso-Blue Goal al posto del TG Sport a partire dalle 14.40. Seguiremo live la sfida tra Campobasso e Catania. Ci saranno ospiti con Luigi Di Lallo, Gaia Cosco e quindi naturalmente collegamenti con la tribuna stampa di Selvapiana dove ci sarà Gianni Bruno. La trasmissione, come ripeto, domani pomeriggio alle ore 14.40 andrà in onda non soltanto su Telemolise ma anche sulle frequenze di Radio Luna. Ricordo anche che invece domani sera alle 20.10 regolarmente il nostro TG Sport evidentemente anche con il servizio sulla partita Campobasso-Catania. Nel pomeriggio la Coppa d'Europa che è stata conquistata dagli azzurri lo scorso 11 luglio a Wembley verrà esposta dalle 15 alle 18 presso il Teatro Savoia a seguire e in programma l'incontro tra il Presidente Gabriele Gravina e i rappresentanti delle società molisane e le istituzioni regionali. Adesso il calcio a 5. Quinta giornata nel girone C della Serie A2 in anticipo questa sera alle 20.15 Italpol-Cusmolise il quadro si chiude domani con Pomezza-Sara-Consilina Roma-Activity Network Mirafin-Pescara Tombesi-Lazio e Nord-Ovest-Benevento riposa la Futsal-Cisterna Campionato di Serie B Girone G Bitonto-Senise Canosa-Polisportiva-Torre Maggiore Chaminade-Città di Potenza Itria-Diaz San Michele-Castellana Sporting-Venafro Mirto-Riposa il Dream Team-Palo del Colle Campionati regionali partiamo dal raggruppamento A della C1 Polisportiva-Boiana-Isernia Fraterna Caraceno-Sestese Rocca-Ravindola Futsal-Coglia-Volturno Venafro-Miranda Riposa-Castell del Giudice e chiudiamo con il girone B Frenter-Larino Arcadia-Termoli Mafalda-Sporting-Campo-Basso Monaciglioni-Juveness-Termoli Portocanone-Cemarin e San Martino Futsal-San Severo In anticipo oggi il Cus-Molise ospite dell'Italpol per la cadetteria domani alle 16 la Chaminade ospita il Città di Potenza Parte in anticipo il weekend di Futsal per le rappresentanti molisane nei tornei nazionali questa sera in campo il CLN Cus-Molise ospite dell'Italpol Roma mentre la Chaminade sarà regolarmente in campo domani nel torneo di A2 in anticipo questa sera alle 20.30 la scuola di San Gennario è attesa ad una nuova sfida complicata avversario di turno l'Italpol di Roma un'altra avversaria da affrontare con dichiarate velleità di altissima classifica sabato scorso Cus capace di sconfiggere al Palahunimol la corazzata del torneo il Pomezia con una prestazione sontuosa i Cussini hanno giocato un match perfetto al cospetto di un roster decisamente di serie superiore la strada è quella giusta le partite vanno affrontate tutte allo stesso modo con concentrazione e spirito di sacrificio il successo contro il Pomezia oltre ai preziosi punti in palio ha portato alla consapevolezza che a determinate condizioni tutte le partite sono alla portata gli alieni sono tornati sulla terra per merito di Barichello e compagni che ora hanno tutte le intenzioni di proseguire sulla strada tracciata come detto ci si appresta ad una nuova sfida complessa l'Italpol può vantare giocatori come Paoligno e Politi Lopez e Bernandez che hanno calcato stabilmente i parchedi A1 oltre un roster di primissimo piano per la serie A2 due vittorie e due sconfitte per i laziali che possono vantare il miglior attacco del torneo 21 reti messe a segno in quattro giornate al contrario male in fase difensiva con 17 reti subite si preannuncia una gara spettacolare al pala olgiata tra due squadre che proveranno ad essere protagoniste del girone C di A2 nel torneo di serie B domani pomeriggio torna a giocare in casa la Chaminade allo sturzo i rosso-blu di Cavaliere ricevono il Potenza occasione per tornare al successo dopo la sconfitta maturata contro la capolista Torremaggiore sabato scorso 2-1 in favore dei Pugliesi con la Chaminade che può recriminare per diverse occasioni fallite la squadra Campobassana necessita di un piccolo step per disputare un torneo di alta classifica la rosa qualità ed esperienza e nel corso della stagione ci attendiamo una crescita esponenziale del collettivo Chami in entrambe le sconfitte maturate in campionato è mancata quel pizzico di esperienza per portare a casa un risultato meritato sul campo domani servono i tre punti contro un Potenza che sta facendo fatica a carburare nel girone G tre gare e tre sconfitte per i Lucani che hanno osservato anche il turno di riposo previsto da calendario licito attendersi un avversario affamato di punti domani allo sturzo in quest'ottica la Chaminade dovrà farsi trovare pronta ad una gara sicuramente spigolosa serve un successo al giovane team guidato da Cavaliere per risalire la classifica e rinsaldare il morale in questa prima fase della stagione Nel campionato regionale di Serie C lo Sporting Campobasso a punteggio pieno tra Coppa e campionato Lo cioccia dello Sporting Campobasso che quest'anno tra l'altro si è affiliato anche alla città di Campobasso di Lega Pro campionato iniziato siete impegnati però anche in Coppa Italia siete reduci proprio dai quarti di andata Sì abbiamo disputato la gara domenica contro il Sansevero a Termoli e devo dire insomma sulla carta una squadra a punteggio pieno e di fatti insomma la gara si è sbloccata subito dai primi minuti questo sicuramente ha aiutato a migliorare le nostre prestazioni e che dire una squadra il Sansevero attrezzata fisicamente presente però insomma anche noi a nostro canto siamo una squadra che sicuramente è composta da ottimi elementi il gruppo è abbastanza affiatato e quindi che dire insomma la stagione è partita bene siamo contenti e soddisfatti del lavoro che siamo produciati c'era tanta voglia di tornare in campo soprattutto dopo lo stop dello scorso anno sì io in realtà ho ripreso a giocare con i piedi dopo diversi anni perché insomma essendo giocatore un ex giocatore della Fuzza al Campobasso dove io ho militato per diversi anni quindi tra il covid e poi la mancata iscrizione da parte della mia vecchia squadra questo come dire ha rallentato sicuramente gli impegni e i ritmi da questo punto di vista comunque in ogni modo ancora a 47 anni continuo ad emozionarmi quindi questa sicuramente è una bella notizia e sono contento di condividere con loro questi momenti belli e ricchi di sport e sicuramente pieni di soddisfazione al momento che campionato stai trovando? Il livello non è altissimo però probabilmente il segreto è tutto diciamo in questa competizione dove bisogna cercare di trovare gli stimoli e la concentrazione mantenere sempre un'alta concentrazione perché sicuramente le squadre devono essere rispettate tutte fino all'ultima in classifica quindi massimo rispetto per ognuno e concentrazione sempre altissima pallavolo maschile di serie B domani al Palavazzieri l'Energy Time Spike Campobasso ospiterà la Green Bari primo servizio alle 18 per la pallavolo femminile di serie C interregionale domenica alla palestra di Villa De Capo la nuova pallavolo Campobasso ospiterà l'Ortuna squadre in campo a partire dalle 17.30 calcio regionale si apre domani il nono turno nei tornei d'eccellenza e promozione domani il Via l'anno è una giornata per il campionato di eccellenza e promozione per la massima serie regionale solo un anticipo poiché la consuetà gara del Campobasso 19.19 è stata posticipata di 24 ore in campo alle ore 14.30 match in programma sesto campano termoli 1920 i sessolesi se la vedranno con l'attuale capolista squadra che ad oggi è riuscita a strappare a tutti i club la vittoria sarà una bella sfida per i ragazzi di mister cecchino che ad oggi hanno totalizzato 11 punti ad arbitrare il signor daddato di Barletta il termoli però è reduce dal primo capo stagionale nei quarti di andata della Coppa Italia dove hanno perso 3-0 in casa del campo di Pietra anche se questo campano è sceso in campo nella competizione tricolore conquistato un successo per 2-1 con il campo marino passiamo al campionato di promozione due match in programma vediamoli insieme riparimo Sani Maronea i ragazzi di mister Bentivoglio reduci da 5 vittorie con 15 punti in graduatoria ospiteranno la Maronea che li segue a meno 5 ad arbitrare il signorizzo di Sernia a proposito della formazione di Montefalcone nel Sagno tornando alla gara di domenica vinta 3-2 contro il Torre Maggiore il giudice sportivo ha inflitto una lunga squalifica per Costantino Giovanni dell'atletico Torre Maggiore fino a tutto il 30 giugno 2022 come riportato sull'ultimo comunicato il tesserato è stato autore di un'aggressione verbale e fisica nei confronti dell'assistente arbitrare numero 1 un comportamento assolutamente da condannare torniamo alla gara di domani il Termoli 2016 sta continuando a fare acquisti per modificare la rosa e recitare il ruolo da protagonista domani gli Adriatici ospiteranno a Montenero di Bisaccia il Trivento il club di Mister Viglione che ha bisogno di fare bene per risalire la classifica ad arbitrare il signor di Domenico di Sernia fischio di inizio alle ore 14.30 domenica l'Aurora Ururi sarà ospite della seconda della classe Olimpia agnonese buono Bruno i punti di slancio però all'orizzonte c'è una partita difficilissima contro la seconda in classifica l'Agnona sì c'è una partita molto difficile infatti in settimana dobbiamo essere tutti presenti agli allenamenti tutti allenarci al massimo e andare a fare partita anche fuori casa andarci a prendere i tre punti anche ad Agnona primi mesi di campionato sei soddisfattissimo due mesi otto partite hai segnato anche con una certa continuità sicuramente contento della scelta che hai fatto sì sì sta andando sta andando bene per me spero di riuscire ad avere il massimo in ogni partita ogni domenica che viene cerco di fare sempre il massimo prosegue il doppio impegno per il campo di Petra dopo il successo di Coppa contro il Termoli i Rosso Blu sono proiettate la gara di campionato in casa del Castel di Sangro Gianluca Borreca il prossimo turno vi vedrà impegnati contro il Castel di Sangro sì non sarà sicuramente una partita facile anche se loro sono nella parte bassa della classifica però non dobbiamo mai sottovalutare un avversario e andremo lì cercheremo anche lì di fare tre punti speriamo bene e adesso che siete lì in alto in classifica qual è l'obiettivo del campo di Pietra? guarda l'obiettivo è sempre vincere tutte le partite poi alla fine dell'anno dove saremo saremo felici in promozione il Baranello domenica in casa dell'Aisernia Fraterna Paolo Di Paolo partiamo dalla fine rigore sbagliato da te parato dal portiere Aceto quanto rammarico c'è? c'è perché potevamo comunque portare a casa un buon pareggio che comunque era meritato secondo me rigore purtroppo l'ho sbagliato succede soprattutto a chi comunque ha il coraggio di andare a tirare c'è il rammarico come ho già detto perché abbiamo comunque giocato una buona partita mettendoli in area di rigore purtroppo è andata così ripartire dalla ripresa per affrontare al meglio la trasferta di Sernia che non è per nulla semplice no andare fuori casa non è mai semplice però adesso abbiamo bisogno di fare punti se vogliamo comunque aggrapparci al gruppo ne su e speriamo bene di portare a casa i tre punti bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio grazie a tutti Grazie.